Il cuore d'Europa è elegante e morto. Soltanto i bambini trepidano prima che il tempo li distrugga. Ci lacerano due piattaforme piuttosto grandi, Satana, l'istituzione della porta d'ingresso e le balze della libertà che sprofondano nel Pacifico. Ma noi siamo un ricordo, perciò indispensabili per il mondo, anche se il nostro mito è incorporato in un meccanismo che non è più a nostra disposizione. La nostra unica reale possibilità storica è la grazia, solo che noi effettivamente non possiamo più utilizzare e nemmeno operazionalizzarla. La psicanalisi è il fondo, la notte prima della rivelazione. Tutti i laboratori del potere andranno in rovina.